Siamo qui a Passo Ghimbegna con Guido D'Amore che ritorna sulle strade del Rally di Sanremo e adesso ci spiegherà il perché. Beh, è sempre bello correre sulle strade di casa, siamo qua a fare una sessione di test e questo fine settimana corriamo a Bergamo con Matteo, pilota veloce Bergamasco e sicuramente mi darà delle gioie e mi farà divertire, cosa ne pensi Matteo? Ma penso che ci divertiremo perché qua useremo la Citroen C4 che è la prima volta che corro con questa vettura l'anno scorso abbiamo usato la Xara che è una vettura molto performante ora stiamo facendo dei test, stiamo facendo delle regolazioni e mi trovo molto bene sia con la macchina che anche con Guido quindi penso che ci divertiremo molto, ora facciamo ancora delle modifiche per modificare il setup e speriamo di riuscire a fare un buon risultato per la gara. Luca Mino, tecnico della D-Max Racing, alle nostre spalle è una C4 VRC questa vettura con cui correrà Matteo Gamba insieme a Guido d'Amore al prossimo Prealpi Aerobiche è una vettura a quattro ruote motrici turbo da 360 cavalli con 52 kg di coppia la vettura è turbo ed è dotata di un dispositivo che permette di eliminare il classico ritardo del turbo detto leg quindi il sistema si chiama anti-leg, è una vettura a cui si può puntare alla vittoria assoluta e con cui sicuramente Matteo ben figurerà al prossimo rally è una vettura a cui si può puntare alla vettura è un'altra vettura a cui si può puntare alle nostre spalle Grazie a tutti.